Il Colomio ha un'importanza fondamentale nella trasmissione, non solo delle emozioni, ma di ciò che si vuole rappresentare. I colori sono caldi, io amo moltissimo il rosso, il blu e il giallo, sono colori importanti proprio sul piano della comunicazione. La materia che uso ha delle caratteristiche chimico-fisiche importanti e sono molto congeniali a tematiche che io desidero affrontare. Uso l'olio, pigmenti e zeoliti. Le zeoliti sono un cristallino di silico alluminato reticolare che ha una struttura molto porosa e permette al pigmento di penetrare e di trattenerlo restituendo lucentezza e struttura solida. Maria Nera è un'opera che indica lo sversamento nel Golfo del Messico di enormi quantità di petrolio, distesa oleosa, soffocante. E si riallaccia anche all'opera Danger che indica quanto sia maldestro l'uso ambientale dell'uomo. Le brezze sul muro sono dei barchi di fuga, di salvezza, per non dimenticare tanti uccisi sul punto di intravedere la libertà. Giovanni Paolo II è un'opera significativa che ha lasciato un grande segno nella storia. È una linea curva del corpo, un accasciarsi dolente che nell'offerta sacrificale delle membra consunte apre alla luce dell'eternità. Le torri gemelle, l'esplosione di queste due torri sono significative perché segnano un varco importante nella storia dell'uomo del nuovo millennio.